ciao ragazzi sono lei e benvenuti in questo episodio del survival games siamo qua con Ale ciao oh finalmente finalmente siamo riusciti a registrare insieme anche se abbiamo registrato l'altro giorno ok basta devo stare zitto perchè qua e comincia a fare i fail son zitto si sei zitto tranquillo non stai parlando senza che tu voglia eh ok quello è importante cosa voti tu? votato 3 ma stai ancora registrando? ho appena incominciato però effettivamente si dovrei finire quindi ci vediamo quando ho fatto la nuova partita sai come chido le persone? ehm ok io ti seguo perchè io ti vedo no seriamente non vedo nessuno io ti seguo perchè io ti vedo dai c'è una persona davanti a te ma stiamo scherzando c'è sembra un cane per i ciechi dai oddio sta arrivando uno con la spada in pietra mi sa che questa partita non riuscirò a vincerla cazzo è vero eh beh con due handicap sai handicap a livello psico motorio what the fuck did i just say dai muoviti ahia sono deficiente sei vuol dire anche dire giusto? sei sei vuol dire dire basta sei vuol dire anche dire dire sei non vuol dire scrivere no è bright scrivere che deficiente mamma mia master pro english 1 1 proprio ho una chest però non vedo veramente nessuno ma come cazzo trovi tutte queste cose aspeghi ti sto seguendo e calmo dammi qualcosa non ti vedo no fermo fermati fermati quante armi hai? ok basta fermo fermo quante armi hai? che armi hai? che armi hai? aspeghi fermo sono qua fermo non fare niente dammi un'arma un'arma non ne ho ne hai una sola ok bene andiamo bene oddio non ci credo non vedo nessuno oh sto pollo maletto dai fermo 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 cazzo mi stai abbastando a me mi hai buttato un fiore grazie ah sei lì tu? si oh hai piantato il fiore andiamo ah hai visto che hai piantato il fiore? ma non mi vedi a me cioè vabbè fantastico anche a me su FIFA 12 mi è capitato sono qui mi vedi? che non si vedesse un giocatore si vai si si tu continua forse se riuscissi se un giorno riuscirai ad arrivare al deathmatch sarà possi... non impossibile sarà che forse dato che fai il refresh della mappa potrei riuscire a vedere qualcuno forse ma non lo fa ma non ci arrivi neanche eh vabbè basta certo che senza vedere le persone al deathmatch ci arrivi come come l'olio proprio fermo dammi qualche arma a me oh una spalla di legno l'ho lasciata apposta per te cosa urli? hai qualcosa di migliore tu? eh no ho solo una spalla di legno no no si vabbè è meglio la lascia di pietra comunque la spalla di legno no hanno lo stesso danno ma a me no no io mi ricordo che era tipo 3 e 2 vabbè e 2 è meglio ho spalla in pietra arco ok quello è sicuramente meglio eh aspeh aspeh no non sto scherzando hanno lo stesso danno c'è scritto con aspetta allora eh f5 no com'era quello si no 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 più 4 attack dei image aspetta forse se faccio default mut multicore no allora ma no col cursore del mouse vai no stavo cercando di aggiustare le persone che non vedo cacchio prova a switchare da fensa a fast eh già fatto qual era quello per ricaricare i chunk? eh contro df se non sbaglio o f3f tipo o il telefono no eh si il mio telefono f3f cavo che bel video mamma mia dai tu vai avanti tu vai avanti io ti vedo no ho chiedato una mucca per noi basta oddio che video mamma a proposito questa mappa che mappa è the fallen empire ma si sente molto il telefono che squilla no non tanto non come l'altra volta che ci avevi vicino al microfono cosa? il telefono si vabbè perchè io ho tipo visto il tuo video dieci minuti fa però ma mi riesci a colpire? girati un secondo no? eh infatti non mi colpisci beh mi sa che interrompe il video perchè è inutile beh bravo eh si il problema è se non vedi gli altri cioè io ti sto guidando praticamente sono una guida morale spirituale vabbè hai un pezzo di ferro e o di diamante? non ha proprio niente zero però io ti riesco a colpire ahia eh questo è il problema ma butta le cose che non ti servono cacchio così non le fai trovare agli altri capito? questa? eh strategia questa è follia questa è sparto ok basta un attimo con la... uff uah ho una golden apple yeah no non mi ricarica proprio ok cacchio eh vabbè oh eh sto cazzo il bello è che non abbiamo ancora ucciso nessuno ok spada in ferro eh spada in ferro detto ah c'è puoi fartela si ma la faccio per te perchè almeno così mi puoi difendere fino al match forse non ci posso credere che sto facendo ma no ma è un errore di server tanto ne che certo tu prendi qualcosa però intanto se no si ma io non prendo tutti e lo lascio agli altri poveracci no ma a livello di di arma che arma c'hai in ah vabbè allora ok tu vai vai al deathmeme vai al e c'è la crafting allo spawn si si sicuro? eh dovrebbe essere tipo su vabbè eh forse eh ff ff eh ff ma no basta ma ci sarà qualche youtuber che l'ha comprato veramente eh ff 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 euro all'anno sarà all'anno? nah così poco scusa 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 surreal power prendere l'esempio di surreal power dove cazzo sei? ah ok prendere l'esempio di surreal power non è che guadagnare tipo 600 euro al mese con youtube è più diopai c'è tipo 120 mila volte 120 volte su tutti ah 120 si no 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 120 volte su iscritti ho sentito una freccia è vero è vero è vero un'altra dove? avendo 120 volte su iscritti fai 600 per 120 dov'è il tizio che mi sta lanciando frecce? eh non lo so sto facendo un calcolo cazzo allora 600 per 12 fa ah che scarso che sono in matematica orca puttana fammi io sono piuttosto bravo ah fai oh 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 shit l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto vedo le persone vive fai 6 per 12 6 per 12 72 dai sei scarso ok aggiungi 30 300 300 300 600 per 12 oh c'è una persona dove? là allo spawn si è vero vedo la gente non morta è morta anche ha la spada in diamante oh cazzo ok bene andiamo a killarlo forse perché mi si sono ricaricati già anche solo a te non vedo 600 per 12 per 12 da 7200 7200 coprimi le spalle un attimo guadagnerà tipo ok si 120 72 2000 euro al mese guadagna più di due paio mo? no 2000 euro al mese no 72.000? eh 72.000 si penso di si minchia e beh cacchio poi per la fidanzata che c'ha è italiana e minchia marzia eccola che si fa fantasie no basta oh come ti permetti che poi la cosa bella è che c'è tranquillamente puoi vedere sto video e capisci non è che ci vuoi tanto è vero perchè diciamolo in francese aiutalo in tedesco aiutalo che è disperato ok basta ahahah dai ma ma lo vedi quello lì? c'è una mira si lo vedo anche se sembra che non lo vedo dalla mira che sto avendo e poi hai fatto un urlo che sembrava un orgasmo oh dobbiamo ucciderlo perchè ha la spade in diamante a me la spade in diamante piace non pensare male perchè ha pensato male la spade in diamante mi piace eh vai avanti vai avanti vai avanti a te che oh appena dicessi ma dov'è che eh l'abbiamo perso cioè l'ho perso cioè l'abbiamo no e dai ecco non siamo in due cioè praticamente noi non stiamo facendo tim perché tu non mi vedi più o meno aspetta un attimo io perchè te ne no non li lasciare posso dire quello che voglio posso dire quello che voglio posso dire quello che voglio senta qua ok son tornato ahahahah beh cosa facciamo ci shiftiamo finchè non non dove sei dove sei no ti ho perso non ci perdiamo perchè tu non mi puoi perdere le mie coordinate sono ehm meno 1494 meno 1688 ok meno 1688 dove cazzo sei ah cazzo meno 1688 494 vabbè dai ho capito meglio così ok ok se sei fermo da prima ti dovrai riuscire a trovare sei son fermo le mie colonne sonore ti ho trovato ti ho trovato ok andiamo vai io ti seguo in my pocket ok basta in my fucking so cool ehm ehm basta ma basta oh c'è uno allo spawn c'è uno allo spawn lit ghost taaa pro sniper ok non so dove sei ma dobbiamo killarlo almeno questo perchè ammazzando con kit ghost sto ammazzando con kit ghost lit ghost kit ghost come cazzo si chiama lui ma che 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 scarso che sei mamma mia c'è che scarso ma ma io lo so ha perso ha perso corsa ha perso corsa cazzo vuol dire c'è il teso che ha perso corsa ha perso corsa ha perso corsa è handicapato ehm no no cosa dici dove è andato ehm lo so che si vedo io ma tu mi vedi ok eccolo 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 ma te tu veramente te non mi no non ti vedo cazzo mi sta ammazzando veramente no eh devo usare la bella dora devo usare la bella dora devo usare la bella dora sì grandissimo no bene ho sei pezzi di ferro se ti interessa mi dai qualcosa tipo di armatura che faccio tipo schifo ma dammi la spalla di ferro almeno cazzo eh te l'ho data oh che bello lui mi dà le cose ok basta basta ma i ricercatori ma basta le l'ho fatta a un mio amico quella battuta si è scandalizzato oddio chiamarlo amico un po' è un po' strano perchè un po' è un po' strano con la persona lì molto strano però comunque comunque si ti ho buttato le acciarine a proposito fammi suotero un attimo l'inventario ah la data data ma tu vedi i tipo di fuoco ora si ma non mi vedi a me no oh ok come your bitches devo chiamare questo video in un modo fantastico tipo non mi vede sono un uomo invisibile e forse riesco anche a vincere e poi vediamo se non se mi dici che sono scarso vediamo è una parola grossa guarda ok mi stai seguendo se non è lo spawn mi sto seguendo non sei lo spawn sei quasi lo spawn ora sei lo spawn basta basta devo smettere ma cosa stai facendo ma cosa stai facendo soprattutto ora giusto per faperlo cosa è così faperlo no cosa no eh grazie che mi dai gli aeroboots così proprio senza neanche avvertirti e qui c'è una mela d'oro ma non c'è l'ombra di un pezzo di diamante ok grazie ma perchè butti le carne mamma mia dai so go on dai muoviti si vedono le particelle che raccolgo io la roba dove cosa una persona una persona c'è un tizio in fondo c'è un tizio in fondo ok sta venendo a destra sta venendo a destra prempite proposto dopo bello quel punto ok sta pescando qualcuno attenzione co sernacchi la grado fatto dattata 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 datta dattata della data da data 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 ratata e attenzione locchina solo lui sa fare questo commento l'ho preso io ha ha occhio il noclo io ok l'uomo che rubò le la kill le le la kill e i a i a i a i a no ma perchè non mi dai mai le ho 64 di no di di feder io ero 37 se scassi l'ho detto così perchè non mi veniva oddio santo non pensare male ma basta che schifo ma basta ma questa c'è travenire la finanziata di più i due paio è come i sasciagri 2 il video dell'altra volta vai da qualche parte cazzo paroloni la cosa bella è che lui non mi vede io potrei tipo fare aspetta ma tu vedi in chat ora cosa ho scritto non sono completamente buggato o forse sono io quello buggato ah no aspetta 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 ok che io all'inizio non vedevo nessuno ma io poi gli altri li vedevo ok sono l'hacker ah una persona dai a aiutami 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 ehm non vedevo niente girati giri 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 eccolo 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 lo vedi lo vede questa luce aia shit attento a non andare nel fuoco schillatore dovrebbe essere italiano ok mi serve oh due diamanti me la faccio io la spada in diamante bastardo l'ho ucciso io vabbè io mi sa che poi la fine la vinciamo sta partita no devo stare zitto cosa hai detto all'inizio c'è leong nel metto in ferro si givamelo nei termini program stai la ma no ma aspetta ok ora butta ma 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 butta tutta sta cosa qua e la bruciamo ok forse alla fine della partita oh cinque acciarini ok ah no no eh e ti ha bruciato un secondo no era solo per vedere se ti vedevo per vedere se ti vedevo wow 3 2 1 way o dove cazzo stiamo ciao oh ti vedo ti vedo si non oh si ma tu ce l'hai ma tu ce l'hai un po' di arco cosa perché mi punti a me stronzo no stavo puntando a lui ok ho aspettato a vedere ho due mare d'oro oh bene in che senso no no attenta che ora mi vecchia a me wow porca puttana lui non so aspetta che siamo in team perché lui non ci vede no lui ci vede forse ok oh che forti aspetta aspetta ora ci chiedevo aveva anche la spada in diamante cosa oh aspetta ora mi vedi guarda che stronzo che ora mi vede bastardo secondo me io ho la valga idea che mi ha visto per tutta la partita che è barato no no guarda il video tranquillo che non è così ah ti ho preso fuoco ti ho fatto prendere fuoco ti ho fatto prendere fottutamente fuoco ti ammazzo ti ammazzo dove sei dove sei ah 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 shit muori no ah non mi hai bruciato non so come ho fatto ma non mi hai bruciato dai stronzo buon cacchio tu non hai cuori bastardo ora mi stai oh che merda oh oh il più forte avevi due spalle di diamante bastardo ah già è vero cioè c'è va lui ok basta lo devo smettere basta you have gained 556 points signori ok direi che questa qua è andata una buona partita italiano 1-1 un applauso all'italiano di Ed ci sei ancora? lui con la spalla di diamante non mi kill giustamente ok direi che per questo video è tutto io vi saluto Sasha Gray è un'altra parte ma è il la spalla